Impressionante la nuvola grigia che intorno alle ore 15 di questo pomeriggio si è sollevata a spirale dal rogo sulla Statale 96, fra Bitonto e Palo del Colle. Un capannone appartenente ad una ditta che gestisce la raccolta differenziata di rifiuti è andato improvvisamente in fiamme. Sul posto sono prontamente intervenute le autobotti dei Vigili del Fuoco e le pattuglie delle forze dell'ordine. Nessuno tocchi la salute di incolpevoli cittadini, ha commentato il sindaco Michele Abaticchio in qualità di presidente dell'ambito sociale di Bitonto e Palo del Colle, ringraziando chi ha domato le fiamme. Chiederemo giustizia verso tutti gli eventuali colpevoli di questo disastro.